L'anno scorso il rallentamento dell'inflazione si è fatto sentire soprattutto sulle famiglie che possono spendere di meno. Per loro infatti il caro vita è sceso all'1,3% nel 2013, per le famiglie più benestanti invece è sceso all'1,2%. Lo rileva l'Istat spiegando che l'anno scorso ha visto chiudersi la forbice a svantaggio dei nuclei meno abbienti. Il motivo è semplice, i prezzi dei beni energetici, la cui incidenza sulla spesa complessiva per le famiglie con minore capacità è più che doppia rispetto ai nuclei più ricchi, sono rimasti praticamente fermi nel 2013, mentre erano cresciuti del 14% nel 2012. D'altra parte in molti casi gli esborsi energetici sono definibili come spese necessarie, dalle bollette al pieno di benzina. Un altro contributo al raffreddamento dei prezzi per i meno abbienti è arrivato dai beni alimentari e anche il cibo ha un peso relativo più ampio sui consumi delle famiglie che spendono meno. Ma il bilancio degli ultimi 8 anni continua a pesare più sui meno benestanti. Tra il 2005 e il 2013 infatti l'inflazione per le famiglie con la spesa media inferiore è aumentata del 21,8% a fronte del 17,7% registrato per quelle con la spesa più alta. Le condizioni delle fasci meno fortunate in Italia sono particolarmente critiche anche secondo il rapporto 2013 su occupazione e sviluppi sociali dell'Unione Europea. Non solo per il problema dell'alta disoccupazione, ma anche per il fatto che un italiano su 8 che lavora non riesce a vivere del proprio stipendio. Inoltre l'Italia è il paese peggiore d'Europa per chi perde il lavoro. Le possibilità di trovarne un altro entro un anno sono le più basse di tutti e 28 i stati membri dell'Unione.